Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia! Questo è il secondo episodio della serie dove provo i giochi che mi consigliate voi per la prima volta. Il primo video in cui giocavo a FIFA vi è piaciuto tantissimo, quindi mi raccomando, mi raccomando, prima di continuare lasciatemi un bel mi piace perché a 3000 like faremo il terzo episodio di questa serie. E non dimenticatevi di commentare qua sotto con dei giochi che vorreste vedermi giocare per la prima volta. Mi avete consigliato di giocare a Rocket League? Ho già provato a fare un paio di partite e la prima in particolare è andata molto molto bene. Su 6 gol 3 erano miei, sono fierissima e ovviamente io non ho registrato nulla. Non capiterà mai più però fidatevi di me perché è successo. Però credo che sia normale perché ovviamente essendo un gioco che provo per la prima volta saranno un po' tutti inabetti come me. E a proposito di questo siate pazienti nei commenti per favore, siate clementi e buoni. Sono ovviamente una nabba, ma siamo qua per divertirci e giocare, quindi non vi arrabbiate se faccio delle schifezze. Dai, 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 basta andare nei tetti! Eccola, eccola, guardami sì, sono io nei tetti. Oh, ti prego dimmi che sono riuscita a pararla, sì, grande, grande, grande. No, no, no! Ovviamente ho fatto tre partite, tutte e tre le ho vinte, però adesso iniziamo con appunto un gol della squadra avversaria. Molto bene, sono fortunatissima! Wow, non vi preoccupate, si recupera, si recupera, vai, vai. Ragazzi, vi prego, vi supplico. Ragazzi, il gol. Dai, è Roma. Ma chi è che mi ha spinta? Ma ti pare? Dai, dai, è nostra. Grande The Rock, io sapevo di poter contare su The Rock! Bravo! Sopracciglia la The Rock. No, portala via, portala via. Ottimo, vai Wolfman, dai Wolfman, dai, dai, dai. Dai che facciamo gol, dai che facciamo gol. Dai, ti prego, ti prego fai gol. Sì, grande The Rock! Le l'ho servita su un piatto d'argento, questo si chiama lavoro di squadra. Perfetto. Fantastico! Bravi, 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 bravi. Grazie, grazie. Vesteggiamo con un sorso d'acqua. Anche voi da casa bevete un po' d'acqua. È estate, fa caldo, irritatevi. Io propongo di rifare di nuovo una tre contro tre. Mi sento confidente. Pronti a vincere un'altra? Io sì. Non l'ho presa perfettamente al centro. Potevo farcela però, potevo, ma non l'ho fatto. Dai, dai che c'è già la prima, dai che c'è già la prima. Ce l'ho! Sì, sì! Incredibile sta ragazza! Ce l'ho fatta! Questo si chiama lavoro di squadra. Vai, mi piace, mi piace questa squadra. Siamo forti. Tre, due, uno, via. Vado io, vado io, vado io. Non ci credo la faccia così! Sì! Incredibile, incredibile! Ma chi è sta ragazza? Che meraviglia guardare le play. Sono così fiera. Tre, due, uno. Vai di nuovo, vai di nuovo. Lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio. Ok. Scende la palla. No, 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 assolutamente no! Assolutamente no! Ok, non è nulla, non è nulla, non è nulla. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. No, 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 no! Godo! Via! Uh! Uh, l'ho lanciata via! L'ho lanciata via! Stavano per fare gol! Però ragazzi sono da sola qua, eh? Non mi piace la faccenda. Ottimo. Grazie per avercela portata qui. Dov'è? È là. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Butta male, butta male. Mi sto scaldando. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere! Ok, tre. Ragazzi è mia, ragazzi è mia. È mia, è mia, è mia, è mia, è mia. Che nessuno... Vai! Sì! No! 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 Che è successo! Perché non è andata... Non è andata in porta! Vi prego. Ragazzi, vi prego. Tagli a Roma. E spostati, Samir! Aia. Troppa gente qua, eh? Troppa gente. Dai! Ragazzi è qua, ragazzi è qua, ragazzi è qua! Abbiamo chiuso la palla in un panino. È un peccato che però qui non ci sia la telecronaca come su FIFA. Ci stava. Venga, Carly vince tutto! Sto facendo molteplici gol. Dai, dai! Perché sono sul tetto? Scendi! Ecco. Questa partita è un suppizio. Un suppizio. No, no! Non fate gol, non fate gol, non fate gol, non fate gol, non fate gol. Riportiamo la palla da noi. Non lì, non lì, non lì! Non le ho sbagliato! Oh, grazie a Dio. Grazie Abel, Abel. Un minuto è rimasto, non so se ce la possiamo fare. Dai ragazzi. Impegniamoci su! Cosa sarà mai fare un gol in mezzo a sei macchini? Un po' di autoscontri ce la possiamo fare. Allora, innanzitutto, leviamo questa palla da qua. Ottimo, ottimo! È mia, ragazze è mia, ragazze è mia, è mia, è mia, è mia, è mia, è mia. Non ci credo, non ci credo come ho fatto a sbagliarlo! Sono Dabba! Sono Dabbissima! C'ero quasi! No ragazze, avevo la porta libera, cioè sono un cinghialotto. Paratela! No! Tutto il mio lavoro sprecato! 14 secondi non ce la faremo mai. Però mai dire mai. Sta a vedere che ce la faccio, sta a vedere che invece ce la faccio! Ti prego! No! È finita, è finita. Ragazze è finita. Non ce la faremo mai. Porca miseria, non ce la facciamo! C'è da piangere qua. Però, considerando che due golle li ho fatti io, non è andata male, o no? Allora, come ultima partita direi di provare una due contro due un po' per cambiare. Vediamo come ce la caviamo. Comunque devo dire, mi sta piacendo parecchio Rocket League. Avevo visto qualche tempo fa un paio di video di Steph e Fere che ci giocavano. Però devo dire, non mi sta dispiacendo, è caruccio. Sono con Pepper! Dai Pepper, dai Pepper! Dai Pepper! Guarda come già facciamo gol, sta a vedere, sta a vedere. Sì, vabbè, io che vado in paradiso. Buongiorno. Pepper, lavoro di squadra. Allora, io adesso te la butto lì e tu la prendi. La prendi, eh? Indietro. Ok. Dai! Sì! Sì! Grande Pepper! Io sapevo di poter contare su di te! Iai! Inizia bene, devo dire, è iniziata bene. Mi è piaciuta. Ok, sta a vedere, sta a vedere. Adesso ce la faccio. Dai! Dritto! Ok, no. Non ce l'ho fatta. Solo una volta ce l'ho fatta, in questo modo. Girati, 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 girati. Arrivo ad aiutarti, Pepper! Non ti preoccupare! È mia! Ok. E spostati tu! Forza, Pepper, passa! Pepper, passa! Perché devo sempre andare nel paradiso? No! Grande! 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 Ottimo! E portala di là! Ti aspetto! Ti aspetto! Ma che fa? No! 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 Meno male c'è Pepper! Uh! Ce l'abbiamo! No! Era già lì al centro! Era perfetto! Bastava solo dare una spintarella! Scusa, ho fatto male a Pepper! Cioè, cos'è? Una partita di pallavolo adesso? E dai, su! Ho fatto male a qualcuno! Ho demolito qualcuno! Non so se è una cosa che si può fare! Pepper! È tua, Pepper! Lanciala! No! No! Che è successo? No, ragazzi, non ho più Pepper! Eccolo, Pepper! No! Perché ero da solo a un certo punto? Miseria! Mi viene da premere shift per lo sprint! Non farete mai gol! Non farete mai gol! E scendi! No, ragazzi, come si scende velocemente dal murro? Cioè, dovete dirmelo nei commenti! Perché non ce la posso fare ogni volta! Rimango l'incastrata! E non l'ho presa! E non la prende, ovviamente! Non la prende! Spostati! Chi mi ha dato un cuccio? E' sempre Pepper! Un minuto è rimasto! Ma stiamo vincendo! No! Cioè, ragazzi, scusate se sto parlando poco! Ma sto proprio tryhardando a livelli pazzeschi! Ok? Ok? Trenta secondi! La possiamo ancora tenere! La possiamo ancora tenere per trenta secondi! No! No! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Oh, Santa Lucia! Santa Lucia! E' un disastro sta partita! E' un disastro! Dai, Pepper! Dai, Pepper! Non è ancora finita, Pepper! Dai, che faccio gol! Non ci credo! Incredibile sta, ragazzo! Incredibile! Bellissimo! Ce l'ho dritta! Ce l'ho dritta! Ce la faccio! Ce la faccio! Ce la faccio di nuovo! Ce la faccio di nuovo! Sta a vedere! No! L'hanno parata! Non so come sia successo, ma... Ragazzi, se riusciamo a tenerla per dieci secondi... Ottimo! L'abbiamo vinta! È vinta! È vinta! E la vince! La vince! Bravissimi! Ottimo! Io e Pepper! Un'unica squadra! Favolosi! Bravi! E' stata tosta! E' stata tosta! Devo ammettere! Ma ce la siamo cavata bene! Ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua! Concludiamo con una bellissima vittoria! Fantastica! Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto! Mi raccomando, lasciate un bel mi piace! Commentate qua sotto! Mi raccomando, ricordatevelo! Da Carly, da Cimia è tutto! Noi ci vediamo prossimamente con un altro video! Adios!